Ciao a tutti e bentornati. Oggi sono qui perché voglio condividere con voi questa mia emozione che mi porto dentro, perché mi è arrivato proprio adesso il pacco da parte di Media Shopping e contiene il box in DVD di Arriva Cristina, la serie ovviamente di Cristina Vena che conosciamo tutti e appunto sono qui perché voglio aprirlo insieme a voi. L'ho ancora aperto, è praticamente intatto, quindi seguitemi e scopriremo insieme cosa contiene. Bentornati, adesso apriamo insieme il pacco. All'interno, vabbè insomma, la solita pubblicità ovviamente non può mancare. Ed ecco qua il nostro box. Ah che bello. Eh ovviamente io ce l'ho fanato. Ah qua un secondo perché c'è anche una birra che adesso metterò in frigo e mi assoporerò visto che fa anche caldo quindi vabbè. Comunque tornando a noi, allora il box è questo. Quindi la serie completa di 35 episodi, anche se in realtà mi fanno benissimo che sono 36 ma purtroppo è andata perduta questa puntata e quindi ci accontentiamo di questi 35 episodi. Comunque anziché parlare è meglio passare fatti insomma. Adesso lo apro subito, cercando di non rovinarlo. Da quanto tempo che si aspettavano questi DVD? Stavano passati circa 30 anni credo. Allora. A prenderlo. Si è andato subito i 4 DVD. Poi ecco questo è il poster. Vediamo come è fatto. Troviamo una bellissima Cassina Arena anni 80 e dietro per te c'è l'intervista esclusiva con tutti i vari aneddoti a proposito appunto di questo di questa sitcom. Comunque non voglio vivrare troppo poi quando riceverete il DVD a casa sarete voi stessi a reggere l'intervista. Questo è il booklet Vabbè c'è la pubblicità ovviamente degli altri DVD quelli della milicia i personaggi i vari episodi inclusivamente le trame l'acrono sonora che è uscito qualche anno fa è uscito un box con tutte le varie varie canzoni della serie e appunto delle curiosità però oltre a questo io vorrei anche farvi vedere direttamente in tv qualche spezzone soprattutto degli extra perché come possiamo notare ci sono diversi extra no forse qui non sono scritti comunque vi faccio subito vedere cosa cosa contengono rieccoci insieme allora la schermata si presenta in questo modo per quanto riguarda i primi tre DVD quindi se ne facciamo selezione episodi troviamo appunto i vari episodi della serie beh questo è il primo video di mente ora vi faccio vedere solo un pezzettino della prima ok ora invece vi mostro i contenuti extra che sono quelli che più fondogola a tutti i fan il box numero 4 contiene tutti i vari extra tra cui giubox questa è una cosa che mi piace molto perché sono tutte le varie canzoni tratte dalla serie appunto però in video quindi esempio se io metto riuscirai parte il pezzo video della medesima canzone poi torniamo indietro abbiamo la sigla quella finale dove era presente la pubblicità del disco del vinile ragazzi abbiamo preparato per voi il 33 giri e la musica setta con tutte le canzoni di arriva Cristina entrambi contengono la sigla che state ascoltando ok poi abbiamo esibizioni abyss vi mostro proprio un pezzettino e dopo questa esibizione c'è una mini intervista insieme a me buongiorno non vi mostro troppo così avrete anche un po' di sorpresa poi gli articoli di tv sorrisi e canzoni poi ce ne sono altri io vi mostro solamente questi per dare un altro tema e poi infine abbiamo due dei spot riguardanti i giochi del suono con Cristina che abbiamo trasmesso appunto dopo il telefilm di Cristina con l'elefante Cirillo Cirillo cosa c'è cosa ti succede perché te ne stai lì zitto zitto ma cosa c'è bambini scusate ma Cirillo è un emotivo ok gli extra sono questi ma in generale direi che con il profanetto è fatto davvero bene quindi l'attesa di tutti questi anni è stata del tutto ripagata se siete fan di Cristina ovviamente questo non può mancare nella vostra collezione quindi vi consiglio di acquistarlo e che dire se il video vi è piaciuto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale di mettere un bel mi piace e se volete commentare io sono qui ciao a tutti alla prossima